È l'11 di agosto 2011 e stiamo vedendo la casa che verrà ristrutturata, siamo a Guastala in via Sacco Vanzetti e abbiamo fatto la propria elettrometrica dinamica che ci illustra una situazione, ci permette di comprendere una situazione del sottosuolo prevalentemente sabbiosa. Siamo vicini al fiume Po, a poco più di un chilometro in linea d'aria e effettivamente troviamo i primi metri, i primi dieci metri con prevalenza di sabbie e limi, soprattutto sabbie poco addensate, quindi è un terreno poco addensato. Per quanto riguarda la morfologia e la bassa pianura reggiana, per quanto riguarda la falda acquifera, grazie alla misura fatta in un pozzo presente nella corte, la falda acquifera è stata localizzata a circa meno due metri e mezzo dal piano campania, è una misura che potrà oscillare di qualche decimetro nel corso dell'anno, quindi le prele e le fondazioni si prevede possono essere apposte a meno un metro e comunque si dovrà tener conto di queste caratteristiche del terreno.